Giornale Radio Salute, a cura dell'azienda USL di Bologna. Un cordiale saluto da Marzia Di Sessa. Angelo Fioritti, 51 anni bolognese, sposato, due figli, è il nuovo direttore del Dipartimento di Salute Mentale delle Dipendenze Patologiche dell'azienda USL di Bologna. Succede a Divonne Donegani, alla quale va il ringraziamento della direzione dell'azienda USL di Bologna. Laureato in medicina a Bologna nell'84 e specializzato in psichiatria nell'88, Fioritti ricopriva da gennaio 2010 l'incarico di direttore del Centro di Salute Mentale di Pianura Est dell'azienda USL di Bologna. Il caldo è finalmente arrivato, ma prestiamo attenzione ad alcune piccole precauzioni suggeriteci dal Ministero della Salute per affrontare al meglio la calura estiva. Uscire di casa nelle ore meno calde della giornata, quindi evitare di uscire dalle 11 alle 18. Indossare un abbigliamento leggero e comodo. Fuori di casa è anche utile proteggere la testa dal sole diretto con un cappellino leggero di cotone chiaro e portare gli occhiali da sole. È importante proteggere la pelle dalle scottature con creme solari ed altro fattore protettivo. Adottare alcune precauzioni anche se si esce in macchina. Non lasciare mai persone o animali, anche se per brevi soste, nella macchina parcheggiata al sole. Se l'automobile è dotata di un impianto di climatizzazione, regolare la temperatura in modo che ci sia una differenza non superiore ai 5 gradi centigradi tra l'interno e l'esterno dell'abitacolo. Rinfrescate sempre l'ambiente domestico e di lavoro. I principali strumenti di controllo della temperatura sono le schermature, l'isolamento termico ed il condizionamento dell'aria. Attenzione a rispettare alcune regole quando si utilizzano i condizionatori. Evitare di regolare la temperatura a valori troppo bassi rispetto alla temperatura esterna. È comunque buona regola coprirsi ogni volta che si deve passare da un ambiente caldo ad uno più freddo e ventilato, soprattutto se si soffre di una malattia respiratoria. Nelle aree caratterizzate principalmente da un elevato tasso di umidità senza valori particolarmente alti di temperatura, può essere sufficiente in alternativa al condizionatore l'uso del deumidificatore. Se si usano invece ventilatori meccanici, non indirizzateli direttamente sulle persone, ma regolateli in modo da far circolare l'aria in tutto l'ambiente. E a proposito di liquidi, bere molto e non bere alcolici. Per le persone in buona salute, bere almeno due litri di acqua al giorno. Gli anziani e i bambini devono bere anche in assenza dello stimolo della sete, privilegiando se è possibile l'acqua del rubinetto, che ha le caratteristiche chimico-fisiche ideali per reintegrare in modo adeguato gli elettroliti persi con il sudore. Evitare gli alcolici e le bevande troppo fredde, limitare l'assunzione di bevande gassate o zuccherate e di bevande che contengano caffeina. Fare pasti leggeri e porre attenzione alla conservazione domestica degli alimenti. Evitare i pasti pesanti ed abbondanti, preferendo 4-5 piccoli pasti durante la giornata, ricchi soprattutto di verdure e frutta fresca, come agrumi, fragole, meloni e verdure ricche di sostanze antiossidanti, come peperoni, pomodori, carote e lattughe. Fare attenzione alla corretta conservazione degli alimenti deperibili, come i latticini, le carni, dolci con creme, gelati, poiché le temperature ambientali elevate favoriscono la contaminazione degli alimenti. Conservare correttamente i farmaci. E in ultimo ricordate di prestare un'attenzione particolare ai soggetti a rischio, in caso di temperatura elevata, prestare attenzione a parenti o vicini di casa anziani che possono avere bisogno di aiuto, soprattutto se vivono soli, e segnalare ai servizi sociali, sanitari, eventuali situazioni che necessitano di un intervento. E per il momento è tutto, appuntamento alle prossime edizioni. Grazie.